Un autentico tsunami giudiziario si è abbattuto sull'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza eseguito nella notte sei ordinanze di custodia nei confronti di medici del maggiore nosocomio del capoluogo erpino, accusati di peculato, falso ideologico e falso in atto pubblico, nonché di truffe e danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 22 persone, sempre tra dirigenti, medici ospedalieri e personale paramedico, sono state invece denunciate dagli investigatori delle fiamme gialle di Via Pontieri. L'operazione è stata ribattezzata Welfar, ovvero Sanità, in questo caso una sanità malata e viziata da professionisti insospettabili che si sono però macchiati di gravi reati. In sostanza, gli interventi estetici ambulatoriali venivano fatti passare per operazioni chirurgiche. L'inchiesta ora fa tremare il mondo sanitario ospedaliero avellinese già minato da altri problemi. Le indagini sono partite nel 2007 dopo una serie di esposti pervenuti alla Guardia di Finanza di Avellino da un medico in servizio presso il Moscati, esposti che ipotizzavano la sussistenza di certificazioni ideologicamente e materialmente false. Quattro anni intensi di attività investigativa, scrupolose e capillare per smantellare una holding che operava ai danni del sistema sanitario nazionale. I sei medici arrestati e ora ai domiciliari sono professionisti molto noti nell'ambiente sanitario erpino e sannita. Centinaia i testimoni ascoltati nel frattempo dei finanzieri, oltre 10.000 alle cartelle cliniche e la documentazione sanitaria acquisita dagli investigatori delle fiamme gialle di Avellino che nella notte hanno eseguito la retata che ha scosso una provincia intera. Colonnello Imparato, è stato inferto davvero un colpo durissimo alla sanità erpina. Che risvolti ci saranno? I risvolti li vediamo giorno per giorno. L'importante è stata questa fase conclusiva dell'indagine che si è concretizzata in 22 denunce a vario titolo, gradazione di responsabilità per truffa, tuffa aggravata, peculato, abuso d'ufficio dei quali 22,6 sono stati oggetto di improvvimento cautelare nella misura degli arresti domiciliari notificati tra la serata di ieri e la notte, due persone erano fuori regione. Si tratta di un'attività che dà premio a quella che è la valenza tipica della Guardia di Finanza, attività lunghe, laboriose, indagini abbastanza puntigliose e puntuali nell'esecuzione con riscontri che poi si sfociano nella configurazione di responsabilità. Nel caso specifico tutto è stato originato da un esposto presentato alla Procura della Repubblica ormai nel lontano 2007 che poi ha configurato l'apertura di un procedimento che delega al nucleo di Polizia Tributaria di Avellino. Gli accertamenti sono partiti quindi all'epoca con l'acquisizione di cartelle cliniche, sono state esaminate oltre 9.800-850 cartelle cliniche, assunzione di prove testimoniali con una svariata centinaia, quasi sotto il migliaio di testimoni sentiti in atto, pazienti, che hanno fatto rilevare un quadro finale in cui patologie oggetto di rimborso da parte del Servizio Salutario Nazionale erano di fatto, nei fatti, mere operazioni estetiche, si trattava di liposizioni, addominoplastiche, protesi mammari. Quindi praticamente una sorta, questo è quello che è emerso dai fatti, configurando, paragonando, raffrontando le dichiarazioni dei pazienti o le cartelle cliniche e in alcuni casi alcuni ricoveri ambulatoriali risultavano dei ospita, quindi con un vantaggio sotto il profilo dell'efficienza cartolare del repart dell'azienda e anche appunto con una vera e propria truffa al danno del Servizio Salutario Nazionale. La cosa che inquieta è che nel mirino sono finiti comunque dei professionisti di chiara fama? Ma diciamo che per la configurazione stessa di quello che è stato rilevato, delle ipotesi di regolarità rilevate, non poteva che esserci una filiera che comprendeva dal chirurgo, al direttore sanitario e ad alcune altre figure all'interno dei coloro che trattavano la pratica dal suo ingresso, quindi anche l'estetista e cose varie, dal suo ingresso fino all'operazione chirurgica vera e propria. Ci saranno comunque altri sviluppi? Adesso per quanto riguarda le nostre indagini noi abbiamo già depositato i nostri atti, a seguito gli interrogatori che si tranno nei prossimi giorni vedremo quali saranno gli sviluppi. Comunque sia un autentico terremoto? Diciamo sì, un terremoto, forse abbastanza importante perché in effetti è stato toccato un po' il vertice di un reparto dell'azienda ospedaliere.